Ciao Luca, mi chiamo Francesco, ho 24 anni e sono della provincia di Taranto. Innanzitutto vorrei farti complimenti sia per il canale che per la tua collaborazione con Paranormal Zone. Ti ricontrato anche questa settimana, solo che questa volta ti mando un messaggio audio come da te specificato. Spero che quello che ti sto per raccontare ti possa interessare, perché io a fine mese discuterò la mia tesi di laurea magistrale in filosofia che in parte almeno tratta del problema della realtà. Cercherò di sintetizzare e di rendere il più possibile semplice il risultato delle mie ricerche. Quindi nota bene, quindi, una gran parte di quello che ti so per dire deriva dalle mie ricerche per la mia tesi di laurea. Allora, proprio volendo credere che fenomenalismo e idealismo siano falsi e che esista una realtà oggettiva esterna alla nostra mente, essa comunque non sarebbe come appare, per ben due ragioni almeno. Sappiamo bene che le cose che vediamo, secondo la scienza, in realtà sono fatte di entità microscopiche impercettibili, postulate dalla teoria della fisica teorica più aggiornata, ammesso che ce ne sia una che abbia ragione su tutte le altre. La seconda ragione è che la percezione umana non è neutra, ma è influenzata dai nostri valori, preconcetti, i pregiudizi e i luigi comuni, basta che i biformastici sono i bias in psicologia, cioè i pregiudizi. Al presente, quando si dice, se non lo vedo non ci credo, la percezione è la nostra immagine del mondo, funzionano al contrario. Se non ci credo, non lo vedo. Esattamente il contrario, quindi. Le nostre credenze influenzano ciò che vediamo. Se tu ti andassi a rileggere i medici di mandare la settimana scorsa, per il vlog della settimana scorsa sui fantasmi, spiegavo brevemente lì, che essendo convinti che in quella casa abbandonata ci fosse qualcuno, o che ci fossero i fantasmi nel caso dei... Io ero convinto che ci fosse qualcuno, i miei amici sono convinti che fossero i fantasmi, erano convinti di aver visto nel video delle figure umane, che quello che vedevano era umano. Io dicevo che ero persone, loro dicevano che ero fantasmi. Perché erano convinti di quello? Ci erano atti anche a suggestionare da tante altre cose. E erano cose che non c'erano, perché se non ci credo non lo vedo. E se ci credo lo vedo. Giusto? Quindi le nostre credenze influenzano ciò che vediamo, persino la percezione visiva, uditiva. Più o meno questo è ciò che il filosofo Wilfried Serger sostiene nella sua teoria della conoscenza. Più o meno, ma in realtà c'è moltissimo da dire. Ci sto scrivendo una tesi di laurea su questo autore. Questo è un autore che è semisconosciuto dagli italiani, però in realtà è stato uno dei più grandi filosofi analitici americani del Novecento. Il filosofo Rorty, forse il più noto in Italia, diceva che la nostra mente non è lo specchio della natura. Quindi la famosa adequazione intellectus et rei, di cui parlavano gli antichi, su base aristotelica, verrebbe meno. La situazione diventa più compressa quando prende in considerazione il falsificazionismo, secondo cui la scienza nel tempo progredisce, e quindi l'entità di cui sarebbe composta la realtà a livello microscopico, cambierebbe a seconda di quale teoria le postula. Se cambia la teoria, cambiano anche le entità in questione, prima c'è gli atomi, poi sotto gli atomo c'è qualcosa altro, sotto le entità subatomiche e via di seguito. Potrebbe anche cambiare il modello, potrebbe anche vedere il confuso di gli atomi, i geni, le molecole e così via. Tanto è vero che comunque sia, anche le nostre teorie scientifiche potrebbero essere influenzate dai nostri pregiudizi, quali siamo affezionati. Io ti consiglio di andarti a leggere un articolo di Howard Gardner, si chiama La Mente Ingenua, perché i migliori studenti delle migliori scuole non capiscono quello che studiano. Cioè brevemente, Gardner gli spiega come anche studiare scienze a livello di dottorato di ricerca potrebbe non servire niente a distruggere i pregiudizi infantili che noi tutti abbiamo, perché lui si occupa dell'apprendimento, soprattutto nei bambini, e scopre come il bambino spontaneamente sviluppa dei preconcetti sulla natura, su quali funziona la natura, il mondo, la scienza, insomma, che però lo studio scientifico possono non confutare. E questo ti può rimanere in testa fino anche dopo il dottorato, ed è molto frequente, soprattutto con la matematica, frattutto. Oppure bastava pensare a quelle ricerche in cui si parla di pregiudizi culturali che fra gli anni 50 e 70 sembravano aver dimostrato che i neri erano per natura meno intelligenti dei bianchi. O per non parlare di quando si parla di alimentazione, ogni dottoria c'era la sua teoria, tutte sembrano essere dimostrate da 50.000 studi, ma non possono avere tutti ragione questi qua. Ma nella pratica si sostengono teorie sulla base di ciò che ci piace, non tanto sulla base di ciò che è vero o falso. Anche in fisica teorica c'erano i fan delle stringhe, i fan della meccanica quantistica, i fan della meccanica al gruppo, i fan del Big Bang tradizionale, i fan di un'altra teoria ancora. E' più che altro come se fosse tipo calcistico, non qualcosa di basato sulla scienza in molti casi, ma pur essendo scienziati importantissimi in fondo. E qui a questo punto, qual è la vera realtà? Pur volendo credere che essa esista, oggettivamente, indipendentemente dalla nostra mente, non lo sapremo mai. Ma bisogna andare oltre. Vado precisato che le cose noi le percepiamo e le comprendiamo sulla base di come sono strutturati i nostri organi di senso e nel nostro sistema nervoso. Chi ci garantisce che noi con esso vediamo e comprendiamo la realtà sia a livello macro che microscopico? Tant'è vero che altri animali non hanno la stessa immagine del mondo che abbiamo noi. Tant'è vero che Max diceva addirittura che affinché ci sia un isomorfismo tra le nostre immagini del mondo e la natura stessa, solamente Dio avrebbe voluto permettere una cosa del genere. Gli dovrebbe postulare l'istenza di Dio che ci fa questo grande miracolo, questo grande piacere, di distrutturare la nostra mente e i nostri organi di senso in modo tale da poterci permettere di vedere la realtà esattamente così com'è. Noi sappiamo però che la nostra neurobiologia è a frutto dell'evoluzione della specie, che quindi soggetta al cambiamento. Significa che i nostri antenati ominidi ne avevano una diversa, che in futuro, se l'uomo sapiens sapiens deve evolvere in qualcos'altro, la nostra neurobiologia potrebbe cambiare e diventare diversa. e non sapremo né come sarà né che razza di magia del mondo potremmo avere. E trovo se stessero gli alieni, no? Sulla base, non so se ne hai presente, degli studi di esobiologia, xenobiologia, biochimica alternativa e cose del genere, che non sono l'ufologia o la fantascienza. Sono studi, già diciamo in teoria, dovrebbero essere seri riguardo alla questione degli alieni. Cerco di capire se è possibile che esistano gli organismi che si formano in contesti completamente diversi della Terra. con gli organismi che sono basati non sulla biochimica del carbonio, ma per esempio su quella del silicio o di altre sostanze, completamente, completamente diversi da noi. Quindi anche la neurobiologia dovrebbe essere completamente diversa e non possiamo nemmeno immaginarci che immagine del mondo avrebbero degli esseri con una neurobiologia completamente diversa dalla nostra. O addirittura ci sarebbe un'ipotesi ancora più estrema da tenere in considerazione. Tra l'800 e il 900 c'è il cosiddetto psicologismo. psicologismo. Cioè significa che si credeva che la logica e anche la matematica dipendessero dalle leggi psicologiche. Oggi conoscendo le neuroscienze abbiamo in mente se qualcuno ha rivalizzato dopo che questa teoria era rigettata perché se avevo psicologismo dovrebbero le leggi logiche, matematiche che sarebbero cambiate a seconda della biologia. se il nostro cervello è stato diverso ecco oggi rinascere il neurologismo perché più si trova sulle neuroscienze queste ipotesi non è cui le leggi logiche e matematiche dipenderebbero dal nostro cervello. Questo io sinceramente non lo so perché sono cose un po' un ambito un po' diverso da quello che ho studiato io. Però se fosse vero diritto dovremmo ammettere non solo ciò che noi crediamo essere scientifico sia frutto di ciò che il nostro cervello ci permette di conoscere ma addirittura la logica e la matematica. Ma è vero che Alvin Planting un altro filosofo analitico solo che questo credo sia ancora vivo dice che il scientismo e il naturalismo sono stati confruttati dal neurodacunismo perché il cervello con cui studiano la natura è frutto dell'evoluzione della specie. Se fosse voluto differentemente avremmo immagini scientifici diverse per cui non potremmo quindi fidarci cieca la mente della scienza fino ad erigere come un nuovo Vangelo. Quindi se adesso sarebbe lo scientismo alla base poi della filosofia naturalista secondo cui esiste solo la natura e nient'altro che la natura. E quindi la vera realtà quale sarebbe? Per questo io non scarto affatto l'ipotesi fenomenalista e vorrei fare infine delle considerazioni sull'idealismo che o cosa ci garantisce che effettivamente esista una realtà esterna alla nostra percezione. Bene a cercare di confutare di solito si cade nel classico errore della petizia principi cioè si presuppone argomentando già la tesi di dimostrare che si presuppone la tesi di dimostrare e che di conseguenza la conclusione poi non può che essere a nostro favore. Per esempio in questi casi si cerca di dimostrare l'esistenza della realtà esterna naturalmente presupponendo che essa già esista. Esempio se mi ha un martello in testa mi faccio del male come posso credere che non esista nulla di fuori della mia mente come ho fatto a farmi del male? Beh la risposta molto semplice sia il martello che il dolore fanno parte della nostra percezione vediamo già per dimostrare che il martello è una cosa di esterno a noi che ci colpisce ma però entrambi sia il martello che il dolore fanno parte inevitabilmente della percezione visiva cioè la percezione visiva del martello del dolore della percezione appunto del dolore e quindi non possiamo sapere che il martello esisterà davvero se non sia tutto come un sogno o qualcosa del genere esempio più difficile i recettori sensoriali si attivano solo se c'è qualcosa di esterno da percepire altrimenti non si percepiremmo bene niente l'errore è lo stesso non solo si presuppone che qualcosa di esterno alla mente attiverebbe i recettori però sul stesso sistema nervoso lo stesso corpo nostro umano farebbero sempre parte della nostra percezione non si è scritto che esiste davvero oggettivamente un corpo esterno un corpo fatto di carne e ossa esterno che esiste indipendentemente dalla nostra mente e dalla nostra percezione però l'idea radicale il cervello di corpo umano non esisterebbero se non nella nostra stessa percezione quindi questa università può essere il psismo idealista cioè esisterebbero un unico soggetto cioè quello che percepisce la realtà quindi tutti gli altri tipo mio padre i miei amici tu tutti quanti frutto della mia percezione mentale il discorso è che ovvio dal mio punto di vista è che stanno così dal tuo punto di vista sono io che esistono nella tua percezione e via discorrendo quindi a questo punto sarebbe dire ma chi è chi esiste veramente io tu cioè non possiamo esistere tutti da questo punto di vista o sbaglio questo si chiama solipsismo perché esisterebbe un solo soggetto pensante se questo fosse vero tutto l'universo intero sarebbe nella nostra mente tutta la realtà intera ma allora a parte il fatto così saremmo tanto tanto speciali se questo fosse vero potremmo dire ma che presunto lo sarei io da dire sono l'unico che esiste e tutta la realtà è nella mia mente ma questo non può servire per confutare l'idealismo non è una contro argomentazione valida però il discorso i miei dubbi che vengo sull'idealismo sono questi per quale ragione io avrei tutto l'universo nella mia mente tutta la realtà nella mia mente e non la conosco e non le conosco nemmeno un pezzettino ci conosciamo 0,0001% di tutto ciò che esiste tutto ciò che è reale tutto ciò che è esistito come mai non sappiamo praticamente niente è come se noi avessi una prospettiva sul mondo come direbbero i fenomenologi se avessi tutto l'universo nella mente perché io ne vedo solamente un pezzo questo sarebbe una cosa molto grossa diciamo quindi dovrei introdurre avere tutta la verità rivelata e poi una cosa più che altro esistenziale dico ma perché la vita è quasi esclusivamente sofferenza se è sottofrutto come di un'allucinazione o di un sogno perché non posso plasmarla visto che la realtà è dentro di me perché non posso plasmarla e far sì che io sia felice questa domanda è stata fra un pochino tutti poi in realtà il momento più credo un po' più valido che credo di avere è questo se la realtà non esiste io alla questa conclusione come ci sono arrivato se non guardando la realtà stessa i libri credo di Berkeley o di altri filosofi che parlano di immaterialismo di idealismo cose del genere dovrebbero esistere soltanto nella mia immaginazione nella mia percezione mentale e dovrebbero esistere quindi come faccio a fidarmi di questi questo io per quanto non escluda anche l'idealismo però prendo di più verso il fenomenalismo più vicino a ciò che dice la scienza più vicino alla fenomenologia che sembra praticamente uno dei pochi che sarei più sicuri per cercare di indagare la realtà ok questo credo di aver finito spero di essere stato chiaro il più breve possibile che ti sia interessato quello che ho detto purtroppo io registro con il cellulare purtroppo sono barbuzziente non posso farci nulla ti faccio ancora i complimenti per il canale spero che tu possa prendere in considerazione quello che ho scritto cioè scritto che voglio di ti ho letto registrando la mia bruttissima voce insomma grazie a Luca complimenti per il canale per il lavoro che fai con Paranormal Zone in bocca al lupo ti saluto ciao 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 ciao